Benvenuti alla decima puntata della seconda stagione di CISL Informa, benvenuti a questo nostro incontro settimanale che vede come tema l'impatto dell'emergenza Covid-19 sul tessuto economico e sociale belunese. Ricorderete la scorsa settimana ce ne siamo occupati sotto il profilo sociosanitario, arriviamo oggi ad occuparci di questo tema e di questo impatto proprio invece sotto il profilo economico e sociale. Per questo i nostri studi, in questo studio della CISL, perché come vedete ci sono tutti i colori e ci sono anche tutte le sigle sindacali che sono moltissime e questo ci dà dimensione anche di quanto sia capillare l'impegno della CISL dal punto di vista della difesa e della tutela dei diritti dei lavoratori nei vari settori. Rudy Ruffarec è segretario, anzi come è corretto sia, Gabriella Conte, segretario CISL FNP Beluno Treviso e il segretario generale aggiunto della CISL Rudy Ruffarec, benvenuti a casa vostra. Iniziamo con Rudy Ruffarec. Dall'emergenza sanitaria, dicevamo ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quella economica. Ci vuoi dare un inquadramento della situazione del Belunese. Beh, innanzitutto un saluto a tutti. Allora, noi abbiamo attraversato tre mesi di un grandissimo lavoro. Pensiamo solo agli ammortizzatori, alla cassa integrazione. Tutti i lavoratori in qualsiasi settore è stato colpito da questa crisi, quindi l'attività del sindacato si è concentrata nel cercare di garantire un reddito e una continuità. chiaramente sono stati colpiti i primi settori, la ristorazione, il turismo e poi via via le aziende manifatturiere. Oggi la situazione ha di chiaroscuri, noi siamo anche ottimisti vista la situazione. Certamente l'economia ci preoccupa, è una situazione forse anche più grave di quella del 2008-2010. Abbiamo già perso molti lavoratori contratti a termine, i somministrati. Ricordiamo che per decreto oggi le aziende non possono licenziare, però qualche speranza c'è. Innanzitutto sul turismo, perché stiamo scoprendo che la montagna si presta a un turismo intelligente, il distanziamento sociale si può fare bene nel nostro territorio, abbiamo tantissime richieste di prenotazione, quindi se siamo bravi ad avere una visione su questo possiamo pensare che i prossimi mesi siano meno terribili di come ci aspettavamo. Dal punto di vista invece della manifattura, dell'industria, qui dipenderà molto da come andranno i mercati internazionali. Oggi il coronavirus sta ancora colpendo alcuni paesi nel mondo, quindi c'è un calo dei consumi e quindi alcune difficoltà li avremo. Però noi abbiamo aziende che stanno investendo e noi siamo convinti che agganciando la tecnologia, l'industria, diciamo anche i settori ambientali, oltre che appunto dicevo prima la tecnologia, abbiamo speranza di limitare i danni. Veniamo alle difficoltà, se questa è la situazione socio-economica per quanto riguarda la nostra provincia, quali le difficoltà per i pensionati e gli anziani del territorio proprio in conseguenza di quanto è accaduto? Ma l'isolamento forzato e la solitudine chiaramente hanno rappresentato una situazione di sofferenza e di ulteriore fragilità per i nostri anziani. Per fortuna, per rispondere poi alle necessità impellenti del momento, i comuni si sono attivati con protezione civile, con le associazioni di volontariato, anche noi abbiamo l'Anteas che ha collaborato per consegna di pasti, per fare la spesa, per portare le medicine eccetera. Chiaramente la rete assistenziale, socio-assistenziale si è allentata. Non è per esempio che l'assistenza domiciliare sia sparita, però si è ridotta anche perché molte volte i familiari hanno preferito non avere l'assistente domiciliare che entrassi in casa per timore di portare il virus, quindi c'è stato questo aggravio anche per le famiglie. Centri di urni, centri di sollievo sono stati chiusi e quindi anche qui le famiglie sono dovute far carico di questa presenza oppure della mancanza di aiuto pomeridiano per i loro cari. C'è stata la sospensione poi, in questo modo, la sospensione delle attività sociali e quindi anche i progressi fatti da questi anziani nel praticare questi momenti di aggregazione si sono affievolite. Hanno avuto meno possibilità o non hanno avuto la possibilità di ricorrere ad esami diagnostici, ad analisi eccetera, a visite magari che erano state programmate, sono state sospese, per cui questo ha rappresentato veramente un momento, un'occasione di ansia, sovraccarico di informazioni che venivano per il Covid. Anche questo ha creato molta ansia perché poi si è creato un po' di, possiamo anche dire, terrorismo mediatico in certi momenti per cui anche l'anziano ha fatto fatica a reggere l'impatto di questa enorme mole di informazioni sulla pandemia. Poi non parliamo degli anziani in casa di riposo, anche quelli hanno sofferto per l'isolamento e per la distanza dei familiari, oltre che per il pericolo. Abbiamo fotografato la condizione degli anziani e delle persone anziane durante questi mesi. Veniamo ad altro ancora sotto il profilo sia dell'assistenza e anche dal punto di vista economico, cioè i comuni, le casse comunali naturalmente si sono depauperate di tutto ciò che era possibile per la pandemia. Come sindacato state mettendo in campo delle iniziative, ad esempio, che sono nuova piattaforma sociale? Sì, una piattaforma sociale, la nostra negoziazione non è mai terminata, anche durante l'account ci siamo attivati tramite videoconferenze con i sindaci e abbiamo cercato di stare al loro fianco perché io credo che amministrare un comune anche in questa situazione sia molto complicato. I sindaci si sono molto sentiti soli. Dal punto di vista del bilancio i comuni sono in enorme difficoltà perché ci sono minori entrate, pensiamo soltanto alle entrate da IRPEF e quindi da reddito, ma anche lo spostamento, il blocco delle tariffe, oppure gli stessi investimenti che i comuni devono fare oggi per mettere in sicurezza le scuole. Quindi c'è una difficoltà generale da questo punto di vista, come sindacato stiamo presentando una piattaforma nuova, ci concentriamo soprattutto sui servizi sociali da ripensare, appunto un'amministrazione amministra il quotidiano, aiutiamo i sindaci ad avere una visione anche in questi settori. Con il coronavirus noi abbiamo la necessità proprio di ripensare ai servizi sociali da offrire le nostre famiglie e non solo gli anziani, pensiamo appunto a tutto il mondo della giovane, soprattutto in un territorio dove c'è lo spopolamento e se vogliamo essere attrattivi da questo punto di vista nella nostra piattaforma, oggi non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio delle singole richieste, noi lavoriamo con i sindaci proprio per orientarli a governare il nostro territorio e far sì che le poche risorse che ci sono siano utilizzate al meglio. Quindi rendere efficiente anche attraverso per esempio collaborazione con i comuni. Noi su questo insistiamo, c'è stata un'esperienza di fusione tra comuni, fatta un po' questa stagione dobbiamo incentivare i comuni a mettere ancora di più i servizi insieme proprio per razionalizzare le risorse. Per quanto riguarda in questa nuova piattaforma sociale, per quanto riguarda l'attenzione ai pensionati e agli anziani? Noi chiediamo che, normalmente lo chiediamo anche in questo frangente, che l'amministrazione faccia un'analisi socio-economica del territorio, in particolar modo nei riguardi dei pensionati che mediamente i nostri pensionati hanno sui 700 euro al mese di pensione, per cui una pensione che li mette nelle condizioni a volte di non far fronte a certe necessità. Quindi bisognosi di assistenza. Molti comuni hanno messo in campo che sono un supporto psicologico, ben da prima, un servizio di ascolto, quindi è un servizio buono che venisse esteso in tutte le amministrazioni. Certo che questo Covid obbliga a fare un cambio di mentalità, ad arrivare a un cambio di mentalità, ad investire anche qua l'integrazione del Comune con il sistema socio-sanitario, investire di più nell'assistenza domiciliare, perché chiaramente i nostri anziani vorranno rimanere a casa e quindi un'assistenza domiciliare più corposa. Sì, più importante. Esatto, e poi la medicina sul territorio, l'assistenza sul territorio, che deve essere implementata sicuramente. 30 secondi per chiudere, segretario. Che taglio dare al futuro? Cioè come va ripensato? Proprio 30 secondi. L'idea, la vostra idea di come vada ripensato il futuro? Noi pensiamo che prima di tutto occorre avere una vision molto chiara di cosa vogliamo fare e la traduco così. Se penso al nostro territorio, penso a un sistema ecosostenibile, non dobbiamo rincorrere agli altri territori che ci sono vicini, quindi dobbiamo offrire un turismo più legato al territorio, all'economia. Noi abbiamo tanti giovani che stanno investendo sul nostro territorio, sui nostri prodotti. Dobbiamo puntare di più sui giovani, dobbiamo essere attrattivi e in questo senso dobbiamo pensare anche a una manifattura più legata, come dicevo prima, alle economie verdi, all'ambiente e all'industria 4.0. Bene, segretario, grazie. Grazie a Gabriella Conte e a Rudy Raffareghe, sono stati i protagonisti di questa decima puntata della seconda stagione di CISL Informa. Abbiamo parlato dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sul tessuto socio-economico bellunese in primis. Grazie a voi per averci seguito e appuntamento rinnovato la prossima settimana con CISL Informa.